Dario Santoro da Manfredonia ha partecipato a questa bella manifestazione che è stata organizzata qui a Vasto, il primo ad arrivare? Sì, è la prima volta che corro qui a Vasto, è un bel percorso abbastanza impegnativo, però si corre bene. Oggi pure il clima è ideale, visto che meno male è andato un po' via questo caldo torrido, che due settimane fa gli italiani su strada abbiamo molto patito tutti i partecipanti. In Sicilia, a Cicli. Ritornando alla gara, una bella gara, ripeto, la prima volta che sono venuto su questo percorso che alcuni amici del posto mi hanno invitato qui a partecipare a questa magnifica gara. Da quanto tempo corri? Io ho iniziato a 18 anni a correre, fino a 18 anni giocavo a calcio. Tramite i giochi della Gioven 2 ho iniziato a conoscere questo sport bellissimo, perché la maggior parte di gente che intraprende questo sport poi non lo lascia più, perché a parte che fa bene alla salute, allo stile di vita, e poi ti fa crescere pure, ti fa maturare molto e ti fa conoscere i sacrifici che si fanno per arrivare a certi risultati. Ecco, una bellissima manifestazione è riuscita, hanno partecipato tantissimi atleti provenienti non solo dall'Abruzzo ma anche dalle regioni vicine. Me l'aspettavo comunque perché negli anni abbiamo lavorato bene e sono felicissimo così.